Ho fatto un'ottima stagione, ho considerato un allenatore nuovo, sono stati in lotta fino alla fine, la stagione dell'Arona è stata ottima. Sì, sì, di Bartolomei è sempre nei nostri pensieri, nei miei. Cosa avrebbe potuto dare Agostino di Bartolomei al calcio di oggi? Sì, quello che ha dato al calcio di allora, qualità, esperienza, serietà, professionalità, un'immagine positiva per tutti i giovani, ha dato lo stesso.